Di va, di va, va a copiare Coale, di va. Cristiano, prendi la palla corta, la palla corta, Mirko, la corta, la corta davanti. Andiamoci, andiamoci. Manuele, faccia il taglio. Che l'ha fatto? A Dondino, pareggio, pareggio meritato della Virtus Castelfrentano con Dondino, Gabriele Donofrio ha detto Dondino, ha pareggiato qua ai fratelli Ciavatta al comunale di Miglianico. Per la quinta gara, per la quinta giornata di andata del campionato regionale categoria Juniores, Under-19, Virtus Castelfrentano. Calcio di rigore, calcio di rigore, atterrato proprio, il portiere è andato sulle gambe e non sul pallone, proprio volutamente sulle gambe. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Si spompano. Speriamo. Oh, Gabriele. Che sa fare qui? Ma perché di nuovo agli ezzi? Freddezza. Sì, però. Ci vuole la freddezza? In quanto chi tira si è presa una grande responsabilità. ha segnato la Virtus Castelfrendano Rete di Salini Giancarlo 2 a 1 il risultato parziale in questa prima fase del primo tempo qua al comunale Fratelli Ciavatta di Miglianico Virtus Castelfrendano 2 Miglianico 1 Gioca, gioca Ancora